Benvenuti, questa è la prima lezione del corso base di Blender. Mi presento, sono Francesco Andresciani e da diversi anni mi occupo della divulgazione di questo bellissimo software. Prima di iniziare vorrei darvi alcune indicazioni molto importanti, l'ho scoperto nel corso degli anni. La prima cosa è che Blender è un programma sì molto vasto, è un programma in continua evoluzione, però vi voglio ricordare che le basi, bene o male, sono sempre le stesse. È un po' come imparare a guidare l'automobile, possono migliorare i modelli ogni anno, però i concetti di base sono sempre gli stessi. Molte persone che si trovano agli inizi di questo percorso spesso si trovano ad avere dei problemi e sono convinte che questi problemi derivino da una diversa versione del software che vedono nel video registrato rispetto a quella che hanno nel computer. Ecco, il 99% delle volte il problema che si riscontra non è un problema di versione. Potrebbe invece derivare o da un piccolo dettaglio che non si è visto o anche da un'opzione attivata involontariamente oppure per aver esplorato qualche opzione senza magari essersi accorti di aver attivato dei comandi o delle opzioni che in un primo momento possono sembrare nascoste. Quello che ci tengo a dire è non preoccupatevi perché come vedremo c'è la possibilità di resettare tutto, di tornare al punto di partenza e una cosa che vi invito a fare è dare un'occhiata alle descrizioni che sono sotto ogni video e a eventualmente i commenti. Per esempio nella lezione 1 del corso base attualmente pubblicato sul mio canale e che verrà sostituito da questa nuova serie vediamo una serie di scritte qua in basso e una parola altro. Vuol dire che se noi andiamo a cliccare si espande tutta una serie di informazioni che ci possono aiutare ad avere delle indicazioni. In particolare se c'è un errore nel video che mi avete segnalato oppure una modifica che nel corso del tempo è stata applicata all'ultima versione di Blender ecco in questa sezione della pagina io andrò a scrivervi le eventuali risoluzioni dei problemi. Qua sotto trovate tutti i commenti delle persone quindi se un problema si può presentare abbastanza spesso quello che farò sarà scrivere qui in basso dove c'è la descrizione del video come risolvere quel problema. Quindi prima di scoraggiarvi, prima di dare la colpa alla versione di Blender ecco mi raccomando andate a vedere le descrizioni che sono sotto i video. Bene, detto questo, che cos'è Blender? Blender è un software open source, un software libero, completamente gratuito quindi è un software multi piattaforma che può essere eseguito su ambiente macOS, Windows, Linux è un software che ci consente di modellare oggetti tridimensionali ci consente di animare dei personaggi, ci consente di realizzare immagini statiche ci consente di fare delle animazioni, dei cartoni animati, ci consente di realizzare effetti visivi, montaggi video, compositing, ci consente di fare delle simulazioni fisiche, di realizzare elementi con sistemi parametrici tramite i nodi e tantissime altre cose ancora. Blender viene utilizzato in ambito architettonico, in ambito archeologico, veterinario, nella medicina, in ambito ortopedico, in tantissimi tantissimi ambiti. Ci vorrebbe un'intera lezione solo per spiegare quanto è vasto l'ambito di applicazione di Blender ma se siete qui probabilmente questo già lo sapete. Bene, come si fa a scaricare Blender? Blender lo troviamo a partire dal sito della Blender Foundation www.blender.org Facciamo clic su Download, quindi qui il sito già sa quale sistema operativo stiamo utilizzando e ci propone il download più adatto. In questo momento io utilizzo Mac OS, quindi mi viene data la possibilità di scaricare la versione per Intel oppure per Apple Silicon. Tuttavia posso comunque scaricare anche le altre versioni per Windows, per Linux o addirittura scaricare il codice sorgente perché se siete per esempio dei programmatori voi non solo potete avere Blender gratuitamente ma potete anche avere il codice sorgente lo potete esplorare, potete vedere cosa c'è sotto il cofano lo potete anche modificare e ridistribuire ma qui si apre un capitolo effettivamente che va oltre agli scopi del corso base. Se scendiamo in questa pagina vediamo anche il link al What's New ovvero quali sono le novità di questa ultima versione. Scendendo ancora si apre una sezione rossa quindi attenzione, stiamo entrando in una zona pericolosa ma che cos'è? È una sezione che ci permette di scaricare le versioni sperimentali di Blender. Una cosa molto interessante è che di Blender possiamo scaricare tutte le versioni precedenti quindi in qualsiasi momento possiamo accedere già dalla versione 1.0 fino alla versione odierna quindi se avrete necessità di installare delle vecchie versioni potrete farlo in qualsiasi momento. Se avrete bisogno di supporto sappiate che abbiamo una bellissima e vastissima comunità di Blenderisti che ci può venire in aiuto. Vi invito caldamente a esplorare il sito www.blender.it che è il sito che ospita la comunità italiana di Blenderisti e anche l'associazione Blender Italia tramite la quale i soci raccolgono i fondi ogni anno per produrre nuovi corsi, per produrre eventi per esempio ogni anno facciamo la conferenza nazionale in una città diversa d'Italia e tante altre cose come per esempio la traduzione in italiano di cortometraggi l'elargizione di premi in denaro comunque vi invito davvero a venire a esplorare questo sito. Se avrete bisogno di supporto potrete entrare nella sezione community e accedere alla sezione supporto oppure andare dentro al forum dove potrete presentarvi porre le vostre domande e magari allegare anche degli screenshot per far capire qual è la vostra situazione. Vi invito anche a seguire i contest che sono un'ottima occasione per mettervi alla prova anche se state partendo da zero anzi soprattutto buttatevi provateci perché mettere in pratica le proprie conoscenze anche se siete le prime armi vi aiuterà a crescere davvero molto velocemente. Bene, abbiamo scaricato Blender lo abbiamo installato ed eccoci alla prima apertura. Come seguire queste lezioni? Io cercherò di fare dei video brevi dai 10 ai 15 minuti che vi consiglio di vedere una prima volta senza interruzioni magari su un monitor full HD ed eventualmente anche con le cuffie per non avere distrazioni. Una prima visione senza fare nulla in modo da poter eventualmente prendere appunti e solo dopo andate a rivedere i vari passaggi per provare a seguire passo passo quello che vi mostrerò nella lezione. In più sappiate che c'è la possibilità di scaricare delle dispense che ho già preparato per voi per il corso base già pubblicato e che verranno comunque aggiornate quindi se avrete il piacere di supportare la produzione di queste lezioni avrete la possibilità di acquistare queste dispense e tutti gli aggiornamenti che verranno fatti proprio per questo nuovo corso saranno compresi come aggiornamento gratuito. Ci tengo a dire che l'acquisto delle dispense è assolutamente facoltativo tutte le informazioni per imparare le basi di Blender sono e saranno sempre gratuite però se avete il piacere di supportare la pubblicazione di queste lezioni e anche delle future avete questa possibilità. Trovate il link sempre nella descrizione del video e avete inoltre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a questo canale YouTube tramite il quale potrete accedere anche a delle esercitazioni pratiche e tanto altro ancora. Bene, partiamo con Blender all'avvio ci si presenta questa finestra quadrata che si chiama Splash Screen e che presenta una immagine di copertina con il logo di Blender questa copertina cambia a ogni versione nuova di Blender e qui in basso a sinistra troviamo il nome dell'autore chissà, magari un giorno anche tu che stai vedendo questo video per la prima volta potrai essere un autore di una copertina. Qui in basso vediamo due colonne dove troviamo New File che ci permette di iniziare un nuovo tipo di file General, 2D Animation, Sculpting, VFX, Video Editing ma in realtà si tratta semplicemente di impostazioni di interfacce diverse si tratta sempre di Blender non cambia assolutamente nulla e quindi la maggior parte delle volte non avrete bisogno di utilizzare questo menu vi basterà semplicemente fare click in un punto a caso del monitor e andare avanti, iniziare a lavorare. Qui in basso avete l'icona Open che ci permette di andare ad aprire un file già creato da voi o da altre persone sotto ancora abbiamo Recover Last Session purtroppo a volte può capitare che per qualsiasi motivo si esce dal programma senza aver salvato ecco con Recover Last Session c'è la possibilità di tentare di recuperare il lavoro che non avevamo ancora salvato. Qui a destra abbiamo Recent File ovvero i file recenti su cui abbiamo lavorato ci sono gli ultimi 5 quindi molto velocemente con un click possiamo tornare a lavorare dove eravamo rimasti. Qui sotto ancora abbiamo la possibilità di accedere alla pagina delle donazioni sappiate che Blender è un programma open source però viene sviluppato grazie alle donazioni donazioni sì di grandi aziende ma anche donazioni di realtà più piccole di privati o anche di associazioni come l'associazione Blender Italia. Infine abbiamo il link alla pagina delle novità che abbiamo già visto nella pagina di download. Bene, per questa primissima lezione ci fermiamo qui e voi direte ma come non mi ha ancora fatto vedere nulla? Vero, però in realtà abbiamo già installato il programma e adesso viene il momento di fare il primo esercizio che vi invito a fare prima di vedere la prossima lezione è quello di provare a esplorare Blender in maniera completamente autonoma. Quindi fate click in un punto qualsiasi del monitor e iniziate ad esplorare liberamente. Non abbiate paura di compromettere il programma non succede nulla. Provate, cliccate, trascinate, ruotate, scalate, provate. Questo è il primo approccio, il primo esercizio e vedrete che vi sarà molto utile. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto.